buongiorno a tutti allora gran premio di singapore singapore vada singapore e mi arrivano due testoni così perché veramente non è possibile fare un gran premio su un circuito del genere in cui non è possibile sorpassare e quindi abbiamo i trenini i trenini poi la gente si si svariona un attimo perché non riesce a sorpassare alla fine magari c'è quasi riuscito e si incazza con quello che si è permesso di non farlo sorpassare gli va addosso vabbè non parliamo prima del tempo di quello che accadrà e andiamo appunto alla partenza perché la partenza è molto bella Hamilton si tiene la sua posizione e zitto zitto cacchio cacchio Vettel riesce a sorpassare furbescamente Verstappen perché praticamente pronti via le due forse india si toccano a vicenda perché Ocon prova a sorpassare all'interno Perez, Perez lo vede cosa fa si sposta furbescamente lo tocca appena appena costringe Ocon ad allargare e a sbattere contro il muro. I giudici di gara quelli che osservano hanno considerato un semplice incidente di gara forse hanno pensato sono della stessa scuderia non stiamo a danneggiarli visto che comunque hanno dato fuori pista un suo compagno di squadra e quindi hanno chiuso tra virgolette un occhio sulla furbata di Perez però macchina disintegrata contro il muro safety car un attimo prima che si accendesse la lucetta della safety car che poi entra nel giro successivo cosa succede succede che il e Vettel con la Ferrari riesce furbescamente a sorpassare molto molto bene Verstappen con la Red Bull e si prende il secondo posto poi scatta la safety car quindi tre giri dietro la safety car e quindi al quinto giro finalmente all'inizio 4 giri all'inizio del quinto durante il quinto mettete quello che volete si riparte con questa classifica Hamilton primo Vettel secondo Verstappen terzo Bottas quarto Raikkonen quinto Ricciardo sesto Perez settimo Grossjan ottavo Alonso nono e Sainz decimo il gran premio per il momento è tranquillissimo proprio perché come vi dicevo non è facile a sorpassare quindi per il momento i concorrenti stanno un attimino schisci in fila indiana poi vedendo quello che è successo appunto tra Perez e Ocon magari preferiscono non rischiare visto che sono ben 61 giri quindi al tredicesimo giro o meglio nel corso del tredicesimo giro Hamilton giro veloce inizia una piccola fughina sfruttando anche il fatto che Vettel e Verstappen si stanno dando battaglia e quindi lui ne approfitta per allontanarsi iniziano i pit stop perché al quattordicesimo giro è Vettel che va ai boss mette la gomma viola subito dopo al quindicesimo giro ci va Hamilton e mette gomma gialla mentre Verstappen per il momento resta fuori e diventa il primo davanti a Bottas e Rayconen quindi per ora sono loro tre primi primi piloti al sedicesimo giro anche Bottas va ai boss mentre Rayconen prosegue e Vettel intanto supera abbastanza vegevolmente Sergio Perez e si porta in quinta posizione nel trattempo subito dopo Verstappen va ai boss all'inizio del diciottesimo giro quindi cerca di stare fuori qualche giro in più per cercare appunto di guadagnare quel tanto che basta per poi andare ai boss e uscire davanti a Vettel risorpassandolo operazione che riesce perché infatti Verstappen esce dai box con una partenza un attimino dal boss che forse era in seconda e partito in seconda quando era fermo ai boss però riesce a uscire arrivano quasi appaiati ma lui riesce a stare davanti a Vettel e quindi si riprende la seconda posizione anzi la quarta posizione perché Rayconen non è ancora e Ricciardo non sono ancora andati ai box quindi al diciannovesimo giro abbiamo Rayconen primo Ricciardo secondo che però devono ancora andare ai boss a fare il cambio gomme mentre invece al terzo posto c'è Hamilton che sulla carta è il primo Verstappen è quarto Vettel è quinto quindi il podio sarebbe questo perché appunto Rayconen e Ricciardo non hanno quei secondi di vantaggio per poter andare ai boss e stare davanti ma anzi torneranno poi alla posizione che gli compete quindi abbiamo come vi dicevo la classifica Rayconen Ricciardo Hamilton Bestaffen Vettel Bottas e poi dietro quelli che lottano per tra virgolette i punticini cioè Alonso Sainz Gasly e Leclerc dal diciannovesimo al ventiquattresimo giro non è che si succede nulla di eclatante al ventiquattresimo giro si ferma anche Rayconen e mette gomma gialla a differenza del suo compagno che ha messo invece quella viola super soft la classifica comunque vede sempre Ricciardo in terza che non sembra per ora intenzionato a rientrare ai box mentre Perez dopo il pit stop è sedicesimo dietro a Sirotkin infatti abbastanza inviperito con la sua scuderia perché cosa mi avete fatto andare ai boss in quel momento lì che così poi sono dietro a tutti al ventisettesimo giro finalmente un piccolo diciamo scintillina di di spettacolo chiamiamolo così perché veramente è stato un gran premio di una noia mortale perché Leclerc dopo una bella battaglia supera Gasly e si prende la nonna posizione comunque tutti e due non hanno ancora fatto il pit stop e infatti al subito dopo essere stato sorpassato da Leclerc il pilota della Toro Rosso va a fare il suo pit stop al ventottesimo giro anche Ricciardo va a fare il pit stop e rientra con gomma viola anche lui per andare fino in fondo e naturalmente esce in sesta posizione quella che aveva ad inizio gara a questo punto tutti quelli che si sono fermati non dovrebbero fermarsi più anche se c'è l'incognita Vettel che avendo messo la gomma viola potrebbe rischiare di non riuscire ad arrivare fino in fondo comunque la classifica al trentesimo giro vede sempre Hamilton al primo posto adesso che hanno fatto tutti il pit stop scusate Verstappen al secondo posto a 4 secondi 8 Vettel al terzo posto a 2 secondi 8 da Verstappen Bottas a 3 secondi e 4 da Vettel Raikkonen a 3 secondi da Bottas Ricciardo addirittura a 13 secondi e 1 da Raikkonen Alonso a 8 secondi e 4 da Ricciardo Sainz Ottavo a 4 secondi Leclerc nono a 18 secondi e Ericsson decimo a 4 secondi e 9 naturalmente sono da un pilota all'altro non dal primo perché se no dovremmo mettere il pallotogliere al trentacinquesimo giro c'è in corso una bellissima sfida tra Perez e Sirocchi con il messicano che va ruota a ruota con il pilota della Williams che però gli resiste e alla fine anche stava volta il messicano si allarga troppo e rovina la sua monoposto ma praticamente sono stati ruota a ruota per un po' di giri alla fine sembrava che Perez fosse riuscito a sorpassare ma era appena avanti cosa ha fatto si è allargato è andato completamente a sbattere contro il pilota della Williams e addirittura la ruota anteriore della Williams perde il colore gliel'ha completamente tolta andando a sbattere e naturalmente rovina la sua macchina fortunatamente per Sirocchi la sua può proseguire però comunque è costretta ad andare ai boss a cambiare le gomme perché dopo un po' dopo un po' sarà costretta a cambiare le gomme però ahimè dopo questa botta Sirocchi incomincia a perdere posizioni perché lo sorpassa a Wolkenberg e poi addirittura lo sorpasseranno anche altre auto ma ne parleremo poi nel proseguio del racconto comunque Perez dopo questa mossa prenderà la penalità di fare il drive through nei boss e arriverà praticamente ultimo una gara veramente da dimenticare per Perez l'hanno tra virgolette perdonato nello scontro col suo compagno di squadra qua non hanno potuto esimersi perché praticamente erano ruota a ruota c'era lo spazio tranquillamente lui si è spostato quasi volontariamente per dare una bottarella al povero Sirocchi che semplicemente stava facendo la sua gara non è che era doppiato o cosa stavano battagliando per una posizione quindi lui ha provato a tenerla ci ha riuscito e comunque al tantesimo giro Hamilton viene rallentato dai doppiati che permettono a Verstappen di portarsi vicino all'inglese e lo stesso vale per Reconen e Bottas che sono proprio vicinissimi la classifica al quarantunesimo giro infatti però rivede Hamilton con tre secondi e mezzo su Verstappen che ci ha provato a stargli vicino ma Hamilton è stato furbo a sorpassato uno dei doppiati costringendo Verstappen a stargli dietro perché non c'era lo spazio per passare da e poi una volta sorpassato anche l'ultimo ha ripreso il suo ritmo che purtroppo la Red Bull non ha il ritmo della Mercedes. Vettel è a tre secondi e otto da Verstappen, Bottas è a quattro secondi e sette da Vettel però al quinto posto c'è Rayconen che è a un secondo e quattro da Bottas mentre Ricciardo è sesto a quattro secondi e sette da Rayconen. Indietro di uno sproposito c'è Alonso a cinquantaquattro secondi con Ericsson che ha quattro secondi e mezzo da Alonso, Sainz che ha meno di poco più di mezzo secondo da Ericsson e decimo è Van Dorn che è a nove secondi e mezzo da Sainz. Al quarantaquattresimo giro dopo diversi tentativi Sainz riesce finalmente a superare Ericsson Ericsson e si prende l'ottava posizione. Comunque questa ottava posizione Ericsson gliel'ha fatta sudare per almeno tre quattro giri ma proprio per il solito motivo che su questo circuito non è possibile sorpassare perché capite come aprite il DRS, l'Aplomobile, tutte le varie cose che poi è la stessa cosa. Il sorpasso viene da sé cioè hai quel 10-20 chilometri in più che ti permettono di sorpassare in maniera abbastanza agevole tra virgolette però se c'è lo spazio ce la fai ma lì era impossibile perché ci sono questi lunghi rettilinee che però hanno subito la curva che devi praticamente da 200 andare a 50 all'ora 60 all'ora quindi non c'è lo spazio c'è solo la curva 7 dove poi magari poi riuscirà. Al cinquantesimo giro comunque la classifica vede sempre Hamilton al primo posto Verstappen dietro a 4 secondi e 3, Bette il terzo a 8 secondi e 6 ormai è in... l'ha lasciato andare anche perché poi ha quasi 8 secondi di vantaggio su Bottas mentre invece Raikkonen è a un secondo da Bottas, Richard ha un secondo e 4 da Raikkonen, sono lì vicini quarto, quinto e sesto e chissà che magari qualcuno non riesca a sorpassare, chissà. Alonso è a 56 secondi e 7 buonanotte, Sainz è a 18 secondi e 6 da Alonso, Leclerc che ha 13 secondi e 7 da Sainz e Hülkenberg che ha 12 secondi e mezzo da Leclerc, quindi capite benissimo che è un gran premio di una noia mortale perché sono tutti a distanza l'uno dagli altri, gli unici che sono abbastanza vicini che potrebbero battagliare sono appunto il quarto, il quinto e il resto, Bottas, Raikkonen e Ricciardo, che praticamente tra da Bottas a Ricciardo ci sono solo 2 secondi e 4, ma ahimè dal cinquantesimo al sessantunesimo giro non succede nulla di eclatante perché praticamente anche i tre personaggi che potevano regalare un po' di emozioni eccetera continuano a inseguirsi il modello taxi, come se fossero su delle rotaie dove non puoi sorpassare, puoi andare sempre alla stessa velocità allo stesso tempo eccetera, se si esclude il fatto che appunto Ricciardo passi da 4 secondi e 8 a 1 seconda e 4, 4 secondi e 8 a 1 seconda e 4, riesce a recuperare tre secondi e a perderli proprio perché cerca di mantenere le gomme in condizioni umane e non vuole stare troppo vicino al pilota della Ferrari Raikkonen perché sennò stando troppo vicino magari le gomme si surriscaldano ulteriormente e si danneggiano, siccome praticamente come vi dicevo sorpassare è quasi impossibile, si sono tutti un po' tra virgolette accontentati. La classifica finale vede appunto la vittoria di Hamilton davanti a Verstappen e Vettel, Bottas è quarto, Raikkonen è quinto, Ricciardo è sesto, quindi abbiamo Mercedes, Red Bull, Ferrari, Mercedes, Ferrari, Red Bull, le prime sei posizioni sono sempre le stesse, ottimo Alonso, settimo che è stato uno dei pochi a non essere doppiati, forse insieme a Sainz, Leclerc è stato doppiato negli ultimissimi giri e nono e decimo è a Hulkenberg, quindi un gran premio veramente uno dei peggiori a cui ho potuto assistere anche se televisivamente parlando, spero che il prossimo sia un attimino più combattuto, anche magari nelle posizioni di rincalzo ma vorrei vedere un po' di sorpassi eccetera non sta noia mortale. Mentre invece che dire Hamilton adesso ha 40 punti su sul simpatico Vettel che non intende sicuramente morallare però nelle ultime cinque gare hanno recuperato ben 48 punti sulle Ferrari o comunque su Hamilton su Vettel che Vettel aveva otto punti di vantaggio cinque gare fa e adesso si trova 40 punti dietro e temo che il mondiale sia tra virgolette finito anche perché il primo prende 25 punti il secondo ne prende 18 quindi 7 per 6 42 dovrebbe vincere sempre Vettel vincere sempre dovrebbe vincere tutte 6 e allora potrebbe vincere il mondiale tranquillamente perché avrebbe quei 42 punti in più quindi con due punti di vantaggio vincerebbe lui mondiale ma riuscire a vincere tutte 6 le gare la vedo molto ma molto dura soprattutto contro questa Mercedes che ha nell'affidabilità il suo punto di forza ricordiamoci che l'unica volta dopo 50 anni 54 anni con un tempo incredibile le due Mercedes non hanno finito la gara quindi capite che affrontare una scuderia che ha il podio assicurato perché ormai hanno sempre il podio assicurato una delle due terze arrivano cioè può capitare che non arrivano se non arrivano terze arrivano quarte però sono sempre lì una scuderia che praticamente porta sempre minimo una macchina alla fine diventa dura poi vabbè può succedere che magari Hamilton possa sbagliare andare a muro spaccare la macchina rompersi il motore eccetera però ripeto vista l'affidabilità però non è finché la matematica non condanna Vettel è giusto che ci provi però figliolo ti devi dare una smossa sia tu che anche la tua scuderia perché oggi veramente la scelta delle gomme è stata sbagliatissima andare a mettere le viola quando poi con le gialle c'era Rayconen che andava anche con le gomme usurate eccetera andava ben veloce rispetto a Vettel che non aveva davanti nessuno perché comunque era a 12 4 secondi 5 secondi poi addirittura 12 18 eccetera da da Verstappen e non riusciva a farle andare fatevi una domanda datevi una risposta quindi vedremo nella prossima gara tra non so quando non ho guardato perché mi piace volta per volta assistere vedere quando c'è eccetera con calma però bisogna darsi devono darsi una mossa perché se no c'è il rischio che tempo due gare il mondiale è finito bene ho parlato troppo ci vediamo al prossimo video buon pomeriggio ciao